Musica Tutti Youtubers e benvenuti a questo nuovo video da parte del team di Portal Games Siamo sempre io, Hans e Vis e questa volta invece andremo incontro a un fantasma Dove ci troviamo? Ci troviamo a nord-est della città di Los Santos Fai vedere bene Vittorio? Su questa scogliera Ok, per vedere dove iniziamo La leggenda narra che verso le undici appaia questo fantasma Vediamo se è realmente così Tra le undici e mezzanotte Come potete vedere al cellulare sono le dieci e cinquanta Quindi tra dieci minuti ipotetici del videogioco dovrebbe apparire il fantasma Sulla punta di quella scogliera Vi consiglio di prendere un fucile di precisione in modo tale da vederla più vicina Ah, l'importante è di non avvicinarsi troppo al fantasma in modo tale che se no scompare Ok Vai Vediamo Ah, è uscita davvero Piddy fucile di precisione Avvicinati, avvicinati No Ah, io ce l'ho piazzato il città, non lo vediamo Aspetta, aspetta, non lo sparare ancora, aspetta, vediamo Prima che se ne va No, noi tentiamo di sparargli Dove il c4 Niente Avvicinate, avvicinate, vai, 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 vai Vediamo che succede Scompare No, no, vai, è ancora là Va No Ah, soltanto sei miri No, scompare Vedi chiare sono Vedi chiare sono Vedi chiare sono Ancora ci dovrebbe essere Solo sei miri appare, incredibile Ecco, mira No Quindi anche sei miri Vai là Vai dove c'è il fantasma Dovrebbe esserci una scritta Infatti è Che vuol dire Non si legge Ma non è che è qualche riferimento o qualcosa No, non lo so Boh No Comunque Il video finisce No Il video finisce Il video finisce Il video finisce H Dovrebbe esserci